Lo spaccio di droghe tra i giovani del Golfo di Policastro dilaga e le forze dell'ordine provano a tenerlo a bada con specifiche attività investigative. Sapri è tra i comuni dove il mercato è in fermento nonostante i continui arresti. L'ultimo in ordine di tempo risale a martedì sera. Ai domiciliari è finito un pluri pregiudicato saprese di 41 anni con precedenti per reati analoghi. I carabinieri del comandante Marino lo hanno sorpreso mentre cedeva della sostanza stupefacente a dei giovani assuntori. La vendita stava avvenendo in un'area non molto distante dalla stazione ferroviaria. L'uomo è stato colto in flagranza di reato perché per interi giorni è stato pedinato e questo ha consentito ai militari di beccarlo nel momento dello spazio. Durante la perquisizione personale sono state rinvenute piccole dosi di hashish eroina e marijuana pronte per essere cedute ai suoi clienti. La droga è stata posta sotto sequestro e il pusher è finito agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.